Per iViraSport.it siamo con Luca Fiuzzi, ecco c'è l'esordio in campionato contro l'Ebranio, che partita ti aspetti? Mi aspetto una partita difficile, una squadra ostica, una squadra costruita anche loro per avere il minimo nei play-off, ci stiamo preparando bene, veniamo da Treveri di Coppa Italia fatte bene, abbiamo raggiunto il passaggio del turno, so che non conta nulla a Coppa Italia, però diciamo che siamo sulla buona strada. Ecco, il Bragno, la tua esperienza, sarà in punta e cardine, innanzitutto come ti trovi con i nuovi compagni di difesa e se giocata a Tre, giocata a Quattro, avete provato varie soluzioni? No, abbiamo provato varie soluzioni, adesso il mister non so con che modo voglia giocare, quei compagni di difesa li conoscevo già e mi sono trovato subito bene e stiamo facendo bene, l'importante è da domenica cercare di costruire qualcosa di importante e stiamo partendo da dietro. Ecco, ci credi a un Bragno che è iniziato male la stagione, un punto in Coppa Italia, voi vi avete fatto benissimo, ma ci credi a un Bragno un po' dietro di voi, come ha detto mister B fino a nostra intervista oggi? Sono sincero, è una categoria nuova, per me non la conosco, non penso, mi hanno detto tutti che è una squadra organizzata, forte, costruita per i play-off, come ho già detto la Coppa Italia bisogna prenderla con le molle, perché alcuni possono fare giocare riserva, alcuni titolari, per cui non saprei dirti se il Bragno ha fatto giocare i giocatori non titolari o no, o magari hanno puntato più sulla preparazione per il campionato, per cui su un punto in Coppa Italia non ci credo, credo più a una scuola solida, credo più a una scuola che venga a cercare di fare il risultato qua e sia una partita ostica. Grazie a tutti.